ha preso una letta con un gancio il GFT dove fra poco inizia la sterrata la pedalata tra il parco dell'Uccellina e Talamone perchè la birra è in pite non posso dirtelo? bisogna fare spesso o leggerlo? ma non posso dirtelo bisogna fare le barre antintrusione nella macchina siamo arrivati all'asfalto teniamo la destra c'è anche il segno via bianco rosso la destra bravi stiamo a destra e poi subito a destra e vai, stai registrando Chuck, telecamera numero 1 Fabrizio, oggi ha perso la strada oggi ha perso la strada non si sa capire alle forcelle nuove non capisce più niente perché c'è le forcelle nuove allora è arrabbiato è arrabbiato dai Fabrizio non prendetela Fabrizio Fabrizio, stai con noi dai Fabrizio andiamo sinistra vai 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 minchia non ci vedo più niente bravo Fabrizio ci ha portato in un bel posto bravo fisico di che? fisico fisico cioè fisico farlo arrabbiare tendeva adesso andiamo nel Rio Brutto questo è il Rio Brutto 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 questo è il Rio Bello Rio Bello tecnicissimi piccoli rini senza acqua stronti, spolline, curve ripide ripide discesa la vava vai 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 Carlo che ti riprendo anche te vai questo è il tuo terreno vai facci vedere facci vedere con quell'enduro lì facci sognare mi stai levando anche tutti i sassi bravo tutti periziano tutti metto occhio occhio le corna me lo ricordavo inventarvi vi dovete ricordare i giri che sapete fare bravo devo fare un po' di tutto quello via via dentro nel Rio Brutto guardava dai 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 che c'è dai 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 non ce n'è non ce n'è brutto ma che impunti impunti oh 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 Abbiamo fatto un cassettino a piedi e ho perso tutto abbiamo fatto il Torrio Brutto adesso c'è una discesa anche questa polverosa tra un anno lo faremo ancora ma magari però non sarò davanti io ci sarà davanti qualcun altro a scegliere il percorso non faccia nome ma vedi dito guardi li abbiamo fatti anche zero scusami eh li abbiamo pedalati eh noi anche noi abbiamo già fatto team bravo ci mettiamo in questo sentiero dritto andiamo per Sant'Agret e la chiesetta di San Rocco casco casco eh ragazzi grazie vai la statua eh però adesso ti diri grazie 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 grazie